le tecnologie che applichiamo sono fondamentali e rimarranno in tutti i prodotti che facciamo non solo nelle scarpe scarpe abbigliamento Grazie mille ragazzi, grazie mille, grazie, grazie di aver partecipato a questo, a questo giornale. Sapete per che cosa io non mollo? Per non perdere queste serate, sono troppo bravi questi ragazzi ragazzi, mi raccoglio e grazie a tutti, grazie, grazie a tutti, grazie a tutti voi, è nato di open bar, musica, di balla, tutti divertiti quando volete.